Un saluto a tutti voi, buon inizio di settimana e bentrovati. Una nuova edizione del nostro telegiornale. Siamo entrati nell'ultima settimana prima del voto. Meno 6 quindi alle comunali del 16 giugno. Il candidato sindaco del centrodestra Mario Conoci si concentra sull'aeroporto, attaccando sinistra. E' necessario recuperare il traffico aereo ante 2016. Lo faremo immediatamente con la regione e la società di gestione, dice. Con la decisione dell'Aggiunta Pigliarù di non sostenere il low cost e la sostanziale privatizzazione della società di gestione dell'aeroporto, sono state poste dal centrosinistra, targato PD, le condizioni del declino dell'aerostazione della riviera del Corallo, fino a giungere alla critica situazione nella quale ci troviamo oggi. Lo sostiene il candidato a sindaco del centrodestra sardista autonomista e civica Mario Conoci, secondo il quale non ci sono dubbi che il territorio negli ultimi anni non sia riuscito a accogliere appieno le opportunità offerte da low cost in termini di crescita dei servizi offerti. Tuttavia, non possiamo ignorare che fino a quando Alghero poteva contare su un elevato numero di importanti tratte, soprattutto europee, la città veniva scelta trattante come destinazione turistica. Il sostegno a low cost da parte della regione, secondo Conoci, è ancora oggi possibile su Alghero. Ricordo, infatti, prosegue, che la Commissione europea ha confermato che gli interventi pubblici a favore delle società di gestione aeroportuale non configurano aiuti di Stato quando avvengono a condizioni accettabili per un investitore privato, secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Alghero possedeva e possiede ancora questi requisiti. Ritornare ai livelli ante 2016 è pertanto possibile attraverso l'avvio di un nuovo piano di sostegno a low cost d'intesa con la regione Sardegna, con la quale, afferma Conoci, avverò da subito le interlocuzioni necessarie. Diversamente, la sensibile attenuazione delle negative conseguenze del pericolo terrorismo e la conseguente ripresa delle destinazioni turistiche del Nord Africa, unitamente all'inarrestabile perdita di passeggeri dovuta alla dismissione del low cost, aprirà scenari seriamente preoccupanti per l'economia algherese, difficili da invertire. Il rilancio del low cost è un'efficace e organizzata attività di promozione del territorio e di importanti eventi da realizzare insieme ai nostri imprenditori del turismo saranno gli ingredienti ai quali Alghero non potrà e non dovrà rinunciare per riconquistare il ruolo da protagonista che ricopriva fino a qualche anno fa, chiude Conoci. È inaccettabile che Bruno continui a fare la propria campagna elettorale utilizzando risorse finanziarie e beni degli algheresi. Occorre un intervento deciso dell'Agicome e della Corte dei Conti. Così invece l'ex sindaco Marco Ted commenta la campagna elettorale del sindaco uscente Mario Bruno che afferma il forzista dopo aver redatto brochure, organizzato eventi e annunciato improbabili inserimenti di anziani presso l'ostello della gioventù e sempre a spese dell'amministrazione che ancora presiede oggi inizia a concedere in comodato locali pubblici ad associazioni politicamente affini ed è proprio la concessione gratuita di un immobile di Santa Maria La Palma un'associazione fatta dalla Giunta senza un bando e senza prevedere un termine di scadenza a scatenare la polemica. Un atto sfrontato, fatto in barba alla legge, senza un minimo di selezione e adottato calpestando a pie pari la competenza del Consiglio Comunale che ha potestà in materia di concessioni di immobili, denuncia Tedde. Un Bruno disperato che le tenta tutte perché sta masticando il sapore amaro della scoffitta elettorale ma non è possibile assistere all'utilizzo dei beni pubblici come fossero di proprietà privata. Dopo l'esposto alla Gcom che sta intervenendo ora chiederemo l'intervento della Corte dei Conti per ristabilire un minimo di rispetto delle regole nell'utilizzo dei beni pubblici e far valutare l'ipotesi di danno errariale. Chiude Tedde. La Riviera del Corallo, come tutta la Sardegna, dovrebbe vivere di turismo 12 mesi l'anno e non sperare in una stagione estiva sempre più breve. deve intervenire in merito il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, che punta su infrastrutture e programmazione per dare una base solida da cui partire per far tornare ad essere la città portadoro del turismo. La Riviera del Corallo, come tutta la Sardegna, dovrebbe vivere di turismo 12 mesi l'anno e non puntare tutte le sue speranze economiche in una stagione estiva che si sta purtroppo rivelando sempre più breve. A dichiararlo in una nota il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Alghero, Roberto Ferrara. Un'opportunità economica mai sfruttata, prosegue il documento. Un'industria turistica mai potenziata, pur avendo risorse e materie prime di altissima qualità. Per puntare in alto, Alghero deve sviluppare gli assetti per costruire una vera struttura solida, capace di offrire servizi di qualità per attrarre in modo stabile i flussi di turisti. Occorre ricorrere all'uso sostenibile sulle bellezze naturali per incentivare l'industria dello sport. Un'industria sportiva di alta qualità in cui si prevede lo sviluppo dello sport a contatto con la natura. Vela, golf, hippie, capolo, free climbing, mountain bike, trekking. Questi sono alcuni esempi. Puntare su percorsi naturalistici, musei sulle grotte di Nettuno e di siti archeologici. L'organizzazione e la promozione adeguata di eventi enogastronomici, sagre, anche in collaborazione con altri paesi sardi per far crescere anche i centri interni del territorio. L'obiettivo, prosegue Roberto Ferrara, è quello di essere competitivi in ogni forma di attrazione turistica sostenibile, espandendo l'offerta anche fuori dai limiti amministrativi territoriali di Alghero, diversificando le offerte. Un'industria turistica del territorio, basata su grande qualità e potenzialità di materie prime disponibili, che la renda competitiva. Un processo costruito gradualmente, con una programmazione a breve, medio e lungo periodo. E non si può, prosegue ancora il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Alghero, non pensare a regolamentare il turismo camperistico, fornando adeguati servizi e disincentivando la sosta libera e selvaggia, soprattutto in punti strategici e panoramici del territorio. Ripristinare la funzione dell'ostello della gioventù e puntare sul turismo croceristico e sulla croceristica sportiva interessata da navi di dimensioni minori, con la possibilità di attracco direttamente in banchina. E non c'è turismo senza promozione. La promozione del territorio, della sua storia, delle sue peculiarità, ma soprattutto delle attività e degli eventi, deve essere un punto centrale rispetto al passato, nell'attività dell'amministrazione comunale, ha dichiarato Roberto Ferrara. Oggi, rispetto al passato, i canali di comunicazione sono cambiati, perciò, oltre alla partecipazione alle fiere di settore, è necessario promuovere Alghero nei canali social più diffusi, soprattutto lo sviluppo di un brand unico, che include diversi sottomarchi presenti nel nostro territorio, come ad esempio il Parco di Porto Conte. Questo, infatti, in termini economici, permetterà di divulgare il marchio più velocemente, a costi inferiori sarà portato al dover divulgare innumerevoli marchi indipendenti, conclude Ferrara, che ironizza amaramente. Assurdo veder spendere soldi dalla regione per posizionare il marchio Sardegna all'interno degli aeroporti sardi. La politica è per tutti e alla portata di tutti, anche dei più piccoli. San Francesco d'Assisi recitava, cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Noi vi chiediamo ciò che per noi è importante, per voi è possibile nella prossima legislatura. Una citazione in San Francesco precede così i 15 punti sottoposti ai candidati sindaco agli studenti di A Scuola di Notizie. Durante il confronto organizzato al Bicycle Cafè, la scorsa settimana è divenuto l'occasione per chiedere ai candidati un impegno concreto a favore dell'infanzia. L'appuntamento è iniziato con le 10 domande sottoposte a ogni candidato e che hanno soddisfatto la curiosità dei 10 bambini presenti. Fin da piccolo volevi fare politica, oppure perché non c'è nessuna donna candidata e ancora è prevista la ristrutturazione degli edifici scolastici? Tante le richieste dalle pisti ciclabili per collegare le scuole cittadine, alle palestre, per l'educazione fisica in orario scolastico. Gli studenti hanno toccato diversi temi per concludere il confronto con la lettura dei 15 punti stilati sulla base delle necessità emerse durante l'anno di attività. 15 punti che coinvolgono la città e la collaborazione di altri enti con i quali sarà necessario coordinarsi per il raggiungimento dei risultati, hanno commentato Bruno, Conoci e Ferrara. I candidati si sono impegnati a fare il possibile, la volontà di soddisfare le richieste e creare una città con i bambini per i bambini è un impegno importante. La scorsa settimana vi abbiamo detto della sospensione del REIS, il reddito di inclusione sociale. Nera nata una polemica tra il direttivo di Forza Italia e l'assessore dei servizi sociali, la Cavazzuti, azzurri che hanno controreplicato all'assessore con una nota. Ciò che l'assessore Cavazzuti definisce in modo stizzito vergognosa strumentalizzazione è invece una doverosa denuncia del direttivo di Forza Italia in relazione alle reiterate negligenze di Bruno e dell'assessore dei servizi sociali, che non sappiamo se sia un ectoplasma o se esista davvero, si legge nella nota. Secondo il direttivo di Forza Italia non si scherza con la vita di 122 famiglie algheresi che non ricevono l'assegno del REIS per il pressapochismo del ministro Di Maio, la non curanza di Bruno, e per l'assenza dell'assessore dei servizi sociali che sporadicamente appare sulla stampa, allorché lì da voce il ghostwriter retribuito dall'amministrazione e quindi dagli algheresi. Assessore che, secondo Forza Italia, appare sporadicamente presso gli uffici comunali e galleggia nella sua liquida incapacità di capire i problemi amministrativi di assumere scelte. Noi siamo al fianco di queste famiglie e di tutte le famiglie e imprese che l'Aggiunta Bruno in questi anni ha lasciato sole a causa dei suoi quotidiani impegni nella saturazione dei media, precise il direttivo di Forza Italia. Si rassereni cavazzuti. Forza Italia conclude la nota con impegno e con grande piacere contribuirà fra pochi giorni a lavorare coprendo le falle che lei e l'Aggiunta di cui fa parte sta per lasciare in eredità agli algheresi. Ci lasciamo per una prima pausa. Tra i volti nuovi in questa campagna elettorale c'è Tatiana Argiolas giovane avvocato candidata con Forza Italia. I nostri microfoni ha spiegato il perché della sua candidatura e non solo. Con Tatiana Argiolas candidata in Forza Italia per Mario Conoci Sindaco una scelta che hai fatto e sei venuta a spiegare le motivazioni. Perché questa candidatura Tatiana? La mia candidatura nasce da una grande passione per la politica da prima come spettatrice e poi in maniera più attiva da un po' di tempo a questa parte. Inoltre anche se sembra scontato dirlo nasce dall'amore per la mia città dall'amore e dal rispetto che ho per la mia città dove sono nata cresciuta dove ho la fortuna di lavorare fortuna che purtroppo molti giovani non hanno. Quindi parli del fatto che comunque ci sono quei giovani che devono partire per andare a cercare lavoro altrove? Purtroppo come tutti sappiamo molti giovani devono abbandonare Alghero per andare a cercare un'occupazione quindi ritengo che una delle priorità che dovrà avere la prossima amministrazione sarà senz'altro quella di ascoltare le esigenze dei giovani e di tradurle in attività in progetti concreti per consentire loro di realizzare i propri obiettivi sia personali che familiari che professionali qui ad Alghero. Tatiana tu sei un giovane avvocato quindi il tuo mestiere la tua professione è qui nella tua città? Sì io lavoro da diversi anni come avvocato qui ad Alghero e incontro tanta gente una delle materie di cui mi occupo prevalentemente è il contenzioso contro il gestore idrico a Banoa proprio in virtù di questa attività che svolgo mi rendo conto che spesso i cittadini vengono lasciati soli nella battaglia contro la Banoa e anche su questo ritengo che la politica possa fare la propria parte per esempio per quanto riguarda i problemi degli slacci delle bollette pazze ritengo che la politica possa attivarsi per organizzare dei tavoli di confronto con il gestore idrico per tracciare una corsia preferenziale più celere per risolvere tutta una serie di problematiche che sono assolutamente rimaste irrisolte e che tutt'oggi creano dei disagi incredibili ai nostri cittadini utenti del servizio idrico questa è una delle tante problematiche ma potremmo parlarne per ore quindi direi che la prossima amministrazione avrà un gran bel da fare che si ripropone agli elettori Alberto Bamonti in corsa per un posto in consiglio con i riformatori sardi questo è il suo pensiero invece su giovani e lavoro pochi giorni al volto campagna elettorale che si avvia la conclusione che campagna elettorale è stata sicuramente una campagna elettorale difficile perché abbiamo girando abbiamo davvero visto tutte le problematiche e tutte le emergenze che la città di Alghero e il nostro territorio ha in questo periodo storico appunto per la nostra città indubbiamente la problematica principale è il lavoro il lavoro è diventato l'emergenza delle emergenze è mancato un progetto regionale e di conseguenza anche un progetto locale i nostri giovani sono costretti a scappare per trovare uno straccio di lavoro magari in alta Italia o addirittura anche fuori dall'Italia e quelli che rimangono devono vedersi magari riescono magari a trovare la possibilità di lavorare un mese due mesi massimo perché ormai la stagione è diventata talmente corta che non si riesce nemmeno più ad avere uno straccio di contratto stagionale quindi siamo davvero a una fase critica e un'emergenza storica per la nostra città quello che io dico che è il lavoro oggi il problema del lavoro si può risolvere solo all'interno di progetti e dinamiche ben precise che non potremmo risolvere da soli ma sicuramente con l'aiuto della regione e del governo nazionale abbiamo come tutti sanno il progetto appunto di introdurre che è quasi imminente all'interno della costituzione il principio di insularità questo principio già centomila sardi hanno firmato per questa battaglia che stiamo portando avanti insieme appunto a quella delle accise che permetteranno sicuramente alle nostre imprese di poter essere più competitive e i sardi soprattutto di poter essere meno svantaggiati di quello che sono e soprattutto alle nostre imprese locali quindi ad Alghero e per quanto riguarda appunto le aziende in generale abbiamo toccato il problema dell'emergenza della sanità abbiamo visto l'ospedale com'era e come lo troviamo oggi il porto com'era sette anni fa e come lo vediamo oggi e tutto il resto perché se ci facciamo un giro per la città c'è poco da chiacchierare quello che dico io è che oggi i cittadini algheresi hanno un'arma in mano che è il voto del 16 giugno il 16 giugno badate bene siate liberi nel votare ma ricordatevi sempre che quest'arma la dovete usare bene e Maria Grazia Salaris invece il consigliere Ocetilino e Conalghero si è concentrata sui servizi sociali in modo particolare sulle criticità del centro residenziale anziani ora all'ex ostello di Fertili in merito nei giorni scorsi tra l'altro avevamo raccolto la denuncia della familiare di uno degli ospiti Sì diciamo che secondo me questo è un settore che in questi ultimi anni ha incontrato grosse difficoltà soprattutto per come è stato gestito dall'amministrazione Bruno è un settore che ha visto negli ultimi periodi un trasferimento nel cuore cittadino quello che ci chiedono gli utenti ma anche gli operatori insomma di poter essere ricollocati in una zona della città più facilmente raggiungibile e soprattutto che abbia una discrezione diversa rispetto all'impatto delle persone che hanno bisogno che si devono rivolgere a quel servizio è un servizio che deve essere riattivato fortemente per quanto concerne anche la tempistica dei pagamenti delle leggi di settore che sono tantissime ma soprattutto diciamo che c'è una grande neo che riguarda proprio la gestione degli spazi del centro residenziale anziani cioè lo spostamento del CRA da Vielle della Resistenza all'ostello della gioventù a Fertile ha comportato sicuramente gravi disagi soprattutto per gli anziani al di là del lavoro ottimo che svolgono gli operatori sia della cooperativa che anche le associazioni di volontariato diciamo che oggi la primaria necessità è quella di ritrovare un posizionamento per i nostri ospiti e i anziani che non può essere sicuramente quello di un ostello della gioventù quindi questa sarà una priorità per quanto ci riguarda e ora parliamo di cittadinanza attiva perché dal comune fanno sapere che sono previsti sgravi per i pescatori algheresi un progetto operativo sperimentale che prevede la raccolta di rifiuti in mare come operazione indiretta dell'attività di pesca i rifiuti raccolti incidentalmente dalle reti dei pescatori algheresi possono essere riportati a terra al fine del loro corretto avvio in un impianto di trattamento rifiuti con oneri a carico dell'amministrazione i benefici per gli operatori della pesca saranno per il contributo sgravio del 50% del canone dovuto per la raccolta e gestione dei rifiuti in area portuale l'iniziativa è stata deliberata dall'aggiunta nei giorni scorsi avrà un ambito di applicazione stabilito da un apposito contratto di partenariato tra comune e operatori della pesca in forma associata che disciplinerà le modalità della raccolta dei rifiuti in mare e la suddivisione dei compiti fra gli operatori e l'amministrazione l'obiettivo è quello di contribuire alla pulizia del mare dai rifiuti al fine di tutelare non solo l'ambiente marino ma anche il comparto economico della pesca l'intervento e le misure di contributo sgravio del canone in questione chiude la nota del comune rientrano nell'emore dell'approvazione della legge salvamare per le annualità 2019-2020 ci fermiamo per un altro break tra poco rally rally interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, in programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non solo. A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto, coordinatore generale per l'organizzazione dell'Automobile Club d'Italia con AC Sport e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e responsabile della sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di AC Sassari, il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del Consiglio regionale Michele Paes e l'assessore comunale al turismo Gabriella Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della Sardegna e del territorio. Ricordiamo che il Mondiale Relli fa tappa ad Alghero dal 13 al 16 giugno. E chiudiamo il telegiornale con il karate. Abbiamo intervistato infatti Cecilia Gobbino, fresca vincitrice di una medaglia d'oro al trofeo nazionale Uoca ASC ed è venuta a trovarci assieme al papà e allenatore Maurizio. Con Cecilia e Maurizio Gobbino parliamo di un oro tenuto da Cecilia di recente a Treviglio, sicuramente non il primo ma l'ennesimo di una lunga serie. Sì, è stata un'altra bella esperienza dove mi ha portato a fare un campionato italiano a Treviglio e sono riuscita ad ottenere la medaglia d'oro sia nel combattimento individuale che a squadre. Ecco, com'è arrivata questa vittoria? È stata sudata fino alla fine, abbiamo vinto sia con la squadra che individualmente molti incontri e con delle avversarie valide e meno male siamo riusciti, non per fortuna ma per grandi sacrifici e lavoro, ad ottenere questo risultato. Maurizio, hai scritto che è stata una vittoria ottenuta con una tecnica particolare tra l'altro. Sì, perché c'era questa diciamo carenza di gamba anteriore, fulminia che deve anticipare le mosse dell'avversaria, quindi quando entra l'avversaria, quando parte per colpire, ritra leggermente e colpira con la gamba anteriore. Ed era una carenza perché era bella però non era ancora a livello nazionale, internazionale. Ci abbiamo lavorato 3-4 mesi con i compagni di palestra, mentre cresce lei e crescono gli altri ragazzi. E questa volta ha pagato, perché quasi tutti gli incontri li ha vinti con questa tecnica fulminia, davvero. E ha anche avuto i complimenti di altri maestri, telefonate che mi hanno fatto, migliorate, insomma, fa piacere, queste sono soddisfazioni grandi. 3-4 mesi hai detto tu di allenamenti e hanno pagato alla fine, insomma. Sì, il conto è che noi, Cecilia si allena tutti i giorni, a volte due volte al giorno, abbiamo dei programmi, dei protocolli che ci hanno anche, con cui ci alleniamo e ci confrontiamo. Ed è un lavoro pesante dal punto di vista fisico e poi queste trasferte è un lavoro pesante anche dal punto di vista economico, perché poi alla fine, essendo uno sport minore, uno sport secondario, è tutto a carico della società o della famiglia, in buona sostanza. Ecco, Cecilia, adesso cosa abbiamo? Cosa abbiamo in cantiere? Adesso ci stiamo rimettendo sulla preparazione atletica per essere belli pronti anche a livello tecnico, ci sarà un altro campionato italiano a Rimini. E' verso ottobre e novembre e quindi ci stiamo preparando tutti insieme per poter arrivare belli carichi e per prendere più medaglie possibili. Complimenti a Cecilia, il telegiornale si chiude qui, però vi ricordo l'appuntamento domani mattina a Radio Catalan, a partire dalle 10 in diretta, un nuovo confronto tra i candidati consiglieri, da una parte per il centro-sinistra Valdo Di Nolfo e Roberto Barbieri, poi per il centro-destra invece Marisa Castellini e Ferdinando Manconi, ma vi ricordo che anche domani alle 19 in diretta dal Carlos Quinto il confronto tra i tre candidati sindaco Mario Bruno, Mario Conoci e Roberto Ferrara. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, a domani.